Sono senza parole ragazzi, sono veramente senza parole per quello che è successo. Non pensavo che un giocatore del mio clan potesse fare una cosa del genere, infatti sono molto ma molto felice di averlo nel clan. Mi ha fatto capire quanto tempo si è allenato per arrivare al livello che è, quanto tempo ha dedicato per essere, diciamo, il player che è adesso. Me l'ho dimostrato con questa partita ragazzi perché ha fatto delle cose veramente assurde. Non sto neanche qua a dirvi cosa è successo perché lo vedrete adesso nel video. Non credevo ragazzi potesse spingersi tanto, non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Ovviamente ragazzi sapevo che fosse forte, lo sapevo ma non pensavo potesse fare una cosa del genere. Io ragazzi vi lascio il video, ah alla fine ragazzi proprio fine 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 video vi metterò una mia clip che fa troppo ridere. Però vabbè è una cosa a parte, mi raccomando guardate il video e guardate che cosa ha fatto questo player. E soprattutto alla fine del video voglio che nei commenti scriviate Jaiba sei un mostro. Perché ragazzi è quello che è, buona visione. Vabbè ragazzi scusate qua ho sbagliato io. Bravo Jaib, mica che botta. Sì che ce la faremo mommy. Ma io l'ho vista dentro, non so ragazzi, c'è questo server o qualcosa che non va eh? Bam! Che sfiga. Vabbè Jaib la tua mira fa schifo. Haha! No! GG Jaib. L'ha toccata, l'hai toccata pianissimo qua. La puoi rompere Jaib? Ti ti ho paura? Ok. Poi non è che dici per due minuti raga, per un po'. Per mezz'ora. Dai forza Jaib. Bot. No. Ehi. Sei. Forza Jaibone. Vorrei guardare un po' lì e non ce la farò mai entrare. Vabbè dai non ce la farai mommy. Bravo Jaib. GG, GG ragazzi bravi. Raga dovete dirmi chi è Jaiba? Sapete chi è? Chat, ditemi tutti chi è Jaiba. Ottimo. L'hai scogliato quello. Bam! No trap? Oddio. Occhio che c'è la digole maledetta. Qua ci moriamo eh. Forza Jaibone. Alla prendi tiro. Alla prendi tira. Alla prendi tira. Vieni, vieni, vieni. Copriti, copriti Jaib. Uh! GG bro! Ma sei un pazzo. No bro. Impattito il mio clan. Adesso quando finisce la partita vado io. Vai tra, vai tra. Vabbè Jaibone tu sei un cazzo di mo... Jaibone ci fa le 20... Allora, sono tutti D ti chiedo un favore. Puoi non stillarle. Cerca di non stillarle, va bene. Questo qua sotto te lo fa' easy. Ok. 16 kill. Sto arrivando. Occhio Jaib, occhio Jaib. Non c'è una digita a quello. Ma scusa, ma perché non ti ha dato la kill? Ah, non l'ha confermato, ok. Io avrei confermato... No, vabbè. Confermolo da dietro, sono tutti D. Oh, Dio l'ha arrestato. No, no, non l'ha arrestato, non l'ha arrestato. Ha arrestato un suo compagno. Ma non l'ha lasciato resciare. Ok, l'ha ha arrestato. Sto qua ha arrestato un bel po'. Lasci, lasci la kill, ok? 17 kill. Lasci essere il suo amico e baci di cattive. No, è quello scappa, lo sai. Sei un po' cacato in mano. Porco. Ok, dai Jaibone. 3 kill, sei 20 bomba, eh. Basta scappare. Sei preso 19 di kill. Jaibone, fine record di kill. Lo sai, vero? Ti prego, tramortircilo, no. Beh, lui si... Sinistra, sinistra, Jaibone. Lui si butta. No, vaffanculo, eh. Sbagliato. Esatto, Carmine. Jaibone, new power. No, vabbè, Jaibone, ma che sfiga. Sono tutti ones, c'è te li ha lasciati. No, c'è ci... Eh? Ma non era bianco? Eh no, ha preso... Cazzo di mostro, sei. 19 kill. Ok. Occhio, eh. Sta curando. Oddio, che tensione, raga. Foto. Attenzione, Jaibone, ragazzi, che ci sta facendo sognare. Vi ricordo che devi un clan. Vai, la mando sul gruppo del clan. A casa, così ci sta. No. Vai, l'ultimo. Ma no, che cazzo dico. Musica, 22 kill e le fai. Le fai, pilati. 21 kill. Parte, Jaibone. No, l'ho fermato in asciutto. No, è zen arrestabile. 23 kill. Foto, di nuovo. What the fuck, man. Quanto è il tuo record? Il mio record è 29. Sì, vabbè, ciao. What the fuck, bro. Qui partono un altro. Asse. No, poi ci sta senza lanciamissimi. Se mi vuoi lasciar qualche kill, eh. Sto tappezzando quelli del clan di foto. Raga, un mostro. 23 kill. Allora, ne rimane uno. Vabbè, zi, lasci la ventiquattresima. Let's go, guys. Ah, ma è un aereo. Ah, è sull'aereo. Fatelo cadere, va? Ok. Vabbè, è caduto. Ve lo fate easy, questa, eh? Esatto, Carmen. Ti fate un quarto di... No, totti goal. No, no. Faccio tutte e due. Raga, chi si iscrive lo saluto, eh. Finita la partita. Su Titch. Mi ricordo che è già bello del mio clan. Lascialo, lascialo, bro, ti prego. Vabbè, mi sembra più che oneroso lasciarti sta kill. Dai, bro! Però... Eh, bro, dai. Nel senso, cioè... Vabbè, mi stai incazzato. Vabbè, ci sta. Cioè, ragazzi, ma che cosa ho fatto? Cioè, ragazzi, mi sono emozionato per quello che è successo. Sono veramente felice di averlo nel clan. Sono molto contento. Anche perché, ragazzi, fare 23 kill in season 7, fidatevi che non è così facile, eh. Non è affatto facile. Poi vi ricordo che Jaiba gioca su PC, ma lo usa il pad. Vi garantisco che usa il pad. Infatti, vabbè, ragazzi, c'è... La sua mira, vabbè, è bellissima. Il suo edit, raga... Anzi, il suo punto più forte è l'edit, raga. È veramente velocissimo a meditare. A costruire è bravissimo. Dai, siamo molto contenti. Ragazzoni, arriviamo a 5.000 like per questo video. Vediamo se ci riusciamo. Lo so che sono tanti, ma ci possiamo provare. Adesso vi lascio una mia clip che ho fatto, perché, ragazzi, fidatevi, è troppo bella. Noi, intanto, vi saluto già. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Mi raccomando, venite a seguirmi su Instagram. C'è il link in descrizione e anche su Twitch vi lascerò quel link in descrizione. Però, vabbè, tranquilli, ragazzi. Nel senso, lo sapete che io faccio live su YouTube. Però, ogni tanto, le faccio anche lì. Quindi, se vi va, passate lì. Vi lascio la clip. Ciao, ragazzoni. La metto in safe. Venite. Altri aerei, ovviamente. Oddio, raga, cosa ho fatto? Oddio, raga, cosa ho fatto? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. No, raga, che cazzo ho fatto qui? Raga, scusate un attimo. L'ultimo, anche l'ultimo. No, vabbè, raga. Occhio che c'è l'altra gente qua davanti, eh. Venite. Ah, li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. Bam! Bam, 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 bam. Ah, vabbè, non ho fatto niente di che. Ok, let's go. Oh, raga, sono qui. Ucciso. Ucciso. Ma chi è che spamma? Che gente che spamma? Raga, continua a fare HS con la Deagle. Cazzo che devo dire? 43. Let's get it. Let's get it, guys. Let's get it. Vabbè, let's get it. Cazzo che devo dire, raga? Let's get it. 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 Let's get it.